e ciao a tutti bella raga oggi siamo nel mio video e siamo qui nel nostro podere e siamo dal pollaio come vedete ci sono ocche anatre e anatre germane con gli anatroccoli chiedo quant'è che sono nati quattro giorni tre mesi tre mesi quattro mesi allora sono solo quattro e ne è morto qualcuno e due non sono riusciti a rientrare la notte sono usciti due non li abbiamo più trovati prima stavo cercando di prenderli poi sentite il verso che fa la mamma guardate quando loro si dividono anche i pulcini lo fanno tipo come per dire venite venite arriviamo li richiama e si incontrano sono bellissimi pensa che l'abbiamo tenuti in gabbia e la mamma li ha riconosciuti dopo tanti giorni le ocche sono lì che dicono ma cosa fanno questi vabbè dai andiamo al solo dovremmo riuscire a tirare su questo qua con te hai 25 kg e niente devo riuscire a prendermelo in spalla no siccome che rideva gli ho detto ti faccio ridere io è facile allora se sforzi lo rimuovi subito allora lui ha detto di metterselo centrali sulla spalla e fatichi di meno però io avrei la spalla anche più piccola beh chiaro però prova dai vaci sotto no così così primo tentativo andato ma perché poi il mangime va tutto giù è certo adesso lo ritira su vai non pensavo che era così difficile hai tre tentativi eh 25 kg e 3 tentativi dopo di che riproveremo a 12 anni devo studiare tipo la tecnica secondo me mi devo tipo mettere così però se me lo metti e così capotti fai la capriola non sulla testa niente è andata male anche stavolta allora aspetta allora guarda che pietra il sole tipo marmo sì vabbè perso il tentativo l'ultimo devi prenderlo adesso che è mollo così e non ce la fai però se te lo fai dritto qua e ti metti sotto ti metti qui di sotto così così però fai più fatica perché tutto è in fondo ok ci provo così ci provo così immagini è tutto sceso di in fondo poi fatica ok dovrebbe per fare una cosa dovresti spaccare la metà così e poi te lo metti su ok vai proviamo anche il terzo tentativo come ha detto l'ultimo tentativo ma non è facile oh non ridete voi eh non ridete eh qua caglietta no provi di che troppo in fondo vabbè dai ammollalo vai riproveremo più avanti ok perfetto dai rimane su tutto tutto moscio vabbè vabbè niente ragazzi per concludere il video vi saluto ciao ah iscrivetevi eh iscrivetevi mi raccomando ciao a tutti ciao